30.000 persone rischiano di restare senza un medico in provincia di Lecce. A far scattare l'allarme il dottor Marchetti, rappresentanza di Federpharma, è presidente di Sunifar Lecce, il sindacato unitario dei farmacisti rurali. Un dato di per sé inquietante che chiama in causa le responsabilità dei vertici sanitari e che richiede una drastica correzione di rotte per evitare di non riuscire a garantire l'assistenza territoriale a decine di migliaia di cittadini. Il nodo fondamentale è legato all'assoluta carenza di medici di base, in particolare nelle realtà rurali. Per Marchetti il problema dipende dalla mancata organizzazione del sistema sanitario. Si punta all'aggregazione piuttosto che alla dislocazione di presidi sanitari sul territorio. C'è una carenza di medici ma molte volte c'è stata una diversa dislocazione non secondo me ben guidata, ben organizzata da parte del distretto sanitario. Perché il distretto sanitario? Perché noi comunque possiamo guardare l'aspetto dell'assistenza territoriale da qualsiasi punto di vista lo si voglia guardare, però dobbiamo tener conto che dobbiamo garantire sui territori il cosiddetto equaccesso alle cure. Nessuno può pensare di lasciare migliaia di persone senza l'assistenza primaria. Mancando l'assistenza primaria inevitabilmente mettiamo in crisi anche le piccole farmacie. Diversi centri a rischio in provincia di Lecce, da Frigole a Santa Maria di Leuca. Frigole perché lì si poteva evitare questa situazione. Se i 700 assistiti mutuati sono rimasti senza il loro medico che ha trasferito il suo ambulatorio a Lecce, non è facile per 700 persone trasferirsi a Lecce per avere un servizio dove oltretutto questi ambulatori sono stracolmi di assistiti. Hanno trovato tutto, ci sono i locali, c'è tutto, si tratta soltanto di convincere questi medici a dare un monte ore che è molto limitato. Le pensi che il medico assolve a quel servizio per ogni 100 assistiti con una sola ora settimanale di ambulatorio. Ma noi non ci battiamo per quell'ora, noi ci battiamo per la presenza comunque del medico, per ridurre i disagi al minimo e per poter anche garantire la sussistenza della farmacia e degli altri servizi. Lo stop, quantomeno le difficoltà concrete ad accedere alle cure, determina secondo Marchetti un'altra pericolosa conseguenza, l'abbandono dei piccoli centri. Questi sono i catalizzatori dello spopolamento. Se noi spopoliamo ulteriormente questi territori mettiamo in difficoltà 200.000 persone.